Al sussurro! Lo straordinario successo del capolavoro di Puccini, la Bohème, andato in scena l'anno scorso a luglio, nei chiostri del Sant'Agostino, ha permesso il coronamento di un sogno, quello di realizzare a Crema una vera e propria stagione lirica. Nasce così il primo festival lirico cremasco, interamente organizzato e prodotto dall'Associazione Culturale Il Circolo delle Muse, un impegno che dura da diversi anni, quello di sensibilizzare e avvicinare i cremaschi all'opera lirica e la risposta è andata oltre le aspettative. Ed ecco quest'anno l'inaugurazione di un festival lirico, che si apre il 12 luglio e prosegue fino al 23 luglio, evento clou La Traviata, di Giuseppe Verdi. Ci sarà il 18, sabato 18, la presentazione completa di Traviata, mentre il 12 e il 23, quindi la domenica precedente e il giovedì successivo a Traviata, ci saranno due concerti, un inaugurale e uno conclusivo, con alcuni cantanti lirici, con nel caso del concerto inaugurale l'orchestra di Fiati di Trigolo e il coro Melos di Montodine e il concerto finale invece sarà dedicato a tre voci femminili e un duo femminile, arpa e flauto, che li accompagneranno. I cremaschi durante l'estate potranno godere di un'offerta culturale ulteriore, l'appuntamento con la lirica nell'incantevole spazio dei chiostri agostiniani, scelti per l'ottima resa acustica e per l'incanto dei luoghi, e che permette in caso di maltempo il trasferimento nella sala attigua Pietro Dacemmo. Una settantina le persone impegnate nella produzione del festival, con un'attenzione particolare ai giovani professionisti, selezionati attraverso audizioni internazionali. Il festival lirica ha ottenuto il patrocinio del Comune di Crema, che concede gli spazi, ma l'intero costo è sostenuto dal Circolo delle Muse e dagli sponsor. L'amministrazione comunale collabora mettendo a disposizione gli spazi, ma poi quest'anno particolarmente l'evento è stato inserito anche nell'ambito delle manifestazioni di Expo, sia all'interno di Extraordinari Crema, sia anche come patrocinio diretto di Expo Milano.